Andiamo verso Baudmoura, isola deserta. Vai capitano! Ali che pesca la traina e il cuoco che oggi ci cucinerà su isola deserta. Un pesce delizioso, il nostro house, magnifico, ciao! Primo pesce, wow! Una fortuna sbacciata! Grazie! Che pesce è? Non lo so! Buon gusto, buon gusto! Grazie! Il mio primo pesce è la traina! Dopo tre minuti l'ho pescato! Come ho detto l'aleno? Grazie! Scusa, lo prendono con le mani! Incredibile, che bello! Vi ho già rientro dall'isola deserta, è bellissimo vederlo! Che meraviglia! Vuela!